Giacomo Ciriello, il 19enne, che nel febbraio 2017 uccise con un colpo di fucile il padre Raffaele Alucignano, dovrà lasciare la casa famiglia di Prato, nella quale si trova e dove sta scontando i domiciliari. Il giovane, infatti, malato e pericoloso, potrebbe ripetere gravi delitti. Sarà così trasferito in un luogo idoneo dove sarà curato e controllato una Rems, una residenza per l'esecuzione di misure di sicurezza. Questo quanto è deciso dal gruppo del Tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, a seguito della richiesta presentata dal legale del ragazzo, l'avvocato Stefano Del Corto, di revocare gli arresti domiciliari e di applicare in via provvisoria la libertà vigilata presso una struttura di secondo grado. All'interno di tale struttura, Giacomo, sarà sottoposto ad un percorso di recupero e terapie adeguate. Adesso la Procura ha inoltrato la richiesta al Ministero della Giustizia. Spetterà all'Asle individuare una struttura, ma non sarà un compito semplice per chi fosse a disposizione. All'interno delle Rems sembrano non esserci. Sono infatti una ventina in Italia, ma tutte piene. Le Rems sono strutture nate in seguito alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Il prossimo 21 marzo è l'ultima udienza del processo a carico di Giacomo, che si celebra con rito abbreviato. Dopo le perizie sul giovane si potrebbe andare verso una soluzione per vizio di mente. Il 19enne, infatti, pur essendo in grado di sostenere un processo al momento del delitto, era incapace di intendere volere.